amici di simone mazzola padelentech bentornati siamo qui anzi sono qui per parlare di premier padel di premier padel di madrid avevo promesso che saremmo ritornati per le live post post tornei non è una live perché ho detto il 10 11 di agosto fare una live alle 8 di sera non ha molto senso quindi registro questo video non c'è neanche emiliano perché in ferie quindi ci risetteremo probabilmente a settembre cercherò di fare qualcosa in solitario con qualche collaborazione fino al ritorno appunto di emiliano partiamo con questo esperimento innanzitutto prima di cominciare due cose fatemi sapere nei commenti alla fine del video se vi è piaciuto cosa si può migliorare i vostri consigli e qualsiasi cosa nei commenti facilissimo ovviamente iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sulle recensioni già domenica ne arriverà una le nostre live insomma tutti i nostri i nostri progetti di simone mazzola padelentech e anche ovviamente padel review quindi lasciate un like anche se vi piace il video fatemi sapere ora partiamo con il parlare di madrid madrid torneo a mio modo di vedere bellissimo perché perché rivivremo particolarmente il tragitto dei campioni alle galan e juan lebron partendo dai quarti partita sofferta semifinale partita sofferta finale partita sofferta hanno vinto hanno vinto perché mi dà l'idea che in questo momento abbiano più cattiveria agonistica degli altri semplicemente lo vogliano di più degli altri ma andiamo con ordine la partita dei quarti di finale dove non ci sono state grandissime sorprese o grandissimi combattimenti stupa e lima hanno avuto il me la meglio in tre set di gonzalez e ruiz in due set che hanno vinto hanno sostanzialmente dominato perdendo il secondo e ci sta navarro e di nenno hanno ritrovato il loro padel e ci arriveremo commentando la finale battendo maxi sanchez e lucio capra abbastanza agevolmente più netto diciamo il divario di quello che dica il 64 76 che fernando belasteghin e arturo coelho hanno subito da san e guterres e agustin tapia che si sono qualificati per la semifinale e possiamo dirlo al loro primo torneo di premier padel come coppia ufficialmente sani aveva già giocato con con il nipote a doha però il primo in coppia e speriamo ovviamente che siamo sicuri che sia di una lunga serie mentre il quarto di finale senza dubbio più avvincente è stato quello tra cingotto teo e galan lebron primo set dominato da cingotto teo che vincono sei due in in scioltezza quasi un grande primo set poi poi però galan lebron vengono fuori io quando ho visto la vittoria del secondo set ho detto secondo me poi alla fine della fiera cingotto e teo si scioglieranno e invece non si sono sciolti sono rimasti in partita fino in fondo hanno avuto le loro chance per giocarsela davvero anche nel terzo set perso solo sei quattro e l'impressione è che dai e dai cingotto e teo siano sempre più vicini prima perdevano abbastanza nettamente non riuscendo a veramente impenserire i top in questa partita è nonostante la sconfitta un buon segnale per cingotto e teo l'unico diciamo cattivo segnale è che cingotto meglio della partita che ha fatto contro galan lebron non può assolutamente fare ha fatto cose mirabili se in difesa e anche qualche volta in attacco teo ha giocato bene ale galan ha giocato abbastanza male nei quarti di finale è stato tutto un torneo un pochino difficile per ale galan il torneo di casa magari sentiva e ha fatto degli errori non da galan il campanello d'allarme per cingotto teo è che con tutti questi fattori nonostante tutto hanno vinto comunque one lebron e ale galan soffrendo andando lunghi perché si è andato il terzo set però alla fine hanno vinto loro ecco aspettarsi qualcosa di più da fede cingotto la vedo difficile teo magari ha avuto qualche momento un paio di errori anche pesanti nel terzo set però ha giocato un'ottima partita lui pure c'è stata un po' la polemica galan ha preso un due o tre volte almeno teo al volto poi al volto scusate al corpo poi c'è stata quella palla buona non buona doppio tocco di galan sembrava evidente che ci fosse il doppio tocco sulla racchetta infatti teo si è molto molto arrabbiato per la ripetizione appunto però è anche stato ripetuto è stato ripetuto al punto e alla fine della fiera tutto è andato come doveva andare nonostante il nervosismo e diciamo un'ennesima gestione arbitrale che ha lasciato più perplessi che persuasi quindi poi alla fine della fiera nonostante un pochino di scaramucce nonostante qualche colpo al corpo che non di cui non ha rilevato volontarietà è successo un po di sfiga ecco i due nastri con cui hanno chiuso la partita galan e lebron sono stati abbastanza fastidiosi da subire vero che erano sul 30 0 e avanti di un break però porca miseria due volte già sul primo cingotto si è trattenuto sul secondo non ci sono state cose particolari o rimostranze particolari però due colpi di fortuna non da poco per chiudere per chiudere la partita quindi cose buone e cose negative per cingotto teio che sono attesi a vincere un torneo quest'anno spero e mi aspetto che lo facciano molto presto parliamo delle semifinali ora parliamo di stupa e lima contro navarro di nenno direi una partita fondamentalmente controllata da navarro di nenno che hanno dimostrato in questo torneo di essere sulla strada giusta nel video che vi lascio sopra nelle schede di un paio di settimane fa avevo parlato di come pachito navarro si era un pochino espresso scusandosi con i suoi fan con il suo compagno con il suo allenatore per lo scarso rendimento ecco in questo torneo sembra come aveva detto lui essere tornato ad amare quello che fa perché ci ha messo del suo abbondantemente per la finale poi è stato ancora un pochino discontinuo però ha giocato per ampi tratti un ottimo padel e diciamo che ancora oggi una buona buonissima prestazione di navarro di nenno è comunque troppo per una coppia lima stupa che sta macinando continuità è lì è sempre lì qualche volta va in fondo qualche volta vince però si presenta con grande consistenza sempre nelle semifinali e questa è una cosa molto positiva per stupa e per lima andiamo a poi analizzare la semifinale con la l e tutte le lettere successive maiuscole ovvero galan lebron contro gutierrez tapia una partita bellissima che lascia tanto tanto amare in bocca a tapia e sanno perché era una partita vinta vinta senza ombra di dubbio sul 5 2 nel terzo set è una partita che tu devi chiudere assolutamente avevamo parlato a tolosa del 4 a 1 che poi è diventata una sconfitta ma lì c'era tutta una questione di bagno pausa tecnica pausa di massaggiatore eccetera cose che erano borderline sul regolamento quindi potevano avere infastidito e fatto uscire di partita sanio e tapia questa volta le scuse non ci sono la partita era seppellita a mio modo di vedere e sanio e tapia non hanno azzannato la giugolare sanio ha sbagliato due colpi comodi nel game che avrebbe potuto chiudere la partita e da lì galan e lebron hanno sentito l'odore del sangue è proprio a questo che mi riferisco a una cattiveria agonistica un rifiutarsi di mollare in ogni situazione che non è solo a parole ma è anche a fatti nei momenti difficili anche in semifinale galan ha fatto qualche errore di troppo ed è stato lebron come in tutto il torneo a trascinare il compagno e a trascinarlo nella semifinale anche con un atteggiamento positivo e propositivo e incoraggiante cosa che in one lebron non abbiamo visto molto spesso però lebron ha fatto un torneo a mio modo di vedere pazzesco e in questa partita ha dimostrato lui e ale galan quanto siano ancora i numeri 1 anche per la coppia che insindacabilmente li mette più in difficoltà in questa stagione ovvero sanio e tapia hanno giocato tre quarti di partita ottima però si sono si sono fermati sul più bello e il rischio è che questa seconda sconfitta con la partita in mano possa lasciare qualche piccolo strascico tecnicamente tatticamente di fisico di tenuta di talento questa coppia sta con galan e lebron lo ha dimostrato anche con i tornei che ha vinto ma soprattutto negli scontri diretti se a tolosa ci poteva essere una scusante diciamo cerebrale in questo caso in questo caso scusante non c'è o perlomeno ci può essere ma è tutta da cercare nel gioco e nella testa dei due protagonisti e da 5 2 a 7 5 in una semifinale che ha in mano è un brutto brutto segnale mentre dall'altra parte per giocando non giocando una partita perfetta è un bellissimo segnale se vai a vincere contro una coppia di questo tipo in situazione di totale emergenza come ripeto era veramente finita ora arriviamo alla finale un'altra partita di altissimo livello di padel altissimo livello di padel primo set 7 5 per navarro di nenno che giocano un grande set vanno vicino a dare il calcio al secchio del latte poi ce la fanno e conquistano il set secondo set appannaggio di lebrone galana abbastanza chiaramente e anche in questo caso sembrava che avessero la partita in mano gli spagnoli poi c'è stato il break ma di nello navarro sono sempre rimasti attaccati alla partita nel momento del break navarro ha fatto qualche errore di troppo poi nel game del 4 a 3 ad esempio per mantenere la partita viva 4 3 forse 5 3 o 4 3 non mi ricordo precisamente ma c'è stato un game in cui navarro ha fatto i bambini coi buff ha fatto un colpo più bello dell'altro un livello di padel altissimo che però dimostra che alla lunga se si gioca sulla lunga durata sulla tenuta sulla costanza sulla capacità di non sbagliare galane lebron sono ancora superiori a navarro e di nenno che hanno giocato praticamente contro tre finali su quattro a doha dove hanno vinto navarro e di nenno e qui a madrid e a roma dove hanno vinto galane lebron poi galane lebron ha vinto anche a parigi contro cingotto teio però insomma l'impressione è che in questi tipi di partite navarro e di nenno di quest'anno facciano ancora un pochino fatica perlomeno dopo l'inizio di stagione che sembrava seguire il light motive della scorsa facciano ancora un pochino fatica a stare sulla lunga durata dei match due ore 28 di match non poco con con lebron e galane lebron e galane che vincono un altro premier padel e diciamo che se le sono abbastanza segnate sul calendario queste date magari concedendo qualcosa nei tornei precedenti dell'urpa del tour abbiamo visto ad esempio a copenhagen ma non è stato l'unico ovviamente se le sono segnate adesso siamo già in pista a mendoza in argentina per un back to back di premier padel che si preannuncia molto molto interessante come la seconda parte di stagione da qui in avanti dove ci saranno tutti ci saranno anche tapia e sanno quindi vedremo anche loro come sapranno tenere alta l'intensità mentale e fisica per così tanto tempo per così tanti tornei perché ora sono alla pari magari qualche vittoria dell'urpa del tour senza togliere assolutamente nulla al loro merito è arrivata anche perché un piccolo vantaggio fisico e psicologico di meno tornei giocati ora siamo tutti alla pari ci goderemo anche sanno e tapia in tutti i premier padel già ovviamente da mendoza in argentina quindi siamo pronti ovviamente l'estate non permette soste e anche voi che probabilmente siete in vacanza vi potrete godere un po di padel magari a orari un pochino più particolare io vi ringrazio per aver visto il video vi invito se volete se vi è piaciuto questo recap a mettere un like a questo video iscrivervi al canale e anche seguirmi su instagram perché avete visto i passaporti delle pale i reel sto spingendo molto ci tengo molto anche a salire come qualità dei prodotti che posso offrirvi su instagram quindi se volete seguitemi vi lascio trovate tutto in descrizione i contatti quindi mi piace molto vi ringrazio se dovessemo arrivare ai 2000 subscriber entro fine agosto siamo 1880 al momento sarebbe top perché alla fine di agosto il canale fa un anno e già ho raggiunto risultati che non mi sarei aspettato grazie a voi che mi seguite che mi scrivete che mi chiedete cose io veramente vi ringrazio per seguirmi spero lo facciate ancora grazie per essere stati con me in questo recap di madrid premier padel noi ci vediamo domenica con la recensione e al prossimo torneo ovviamente di premier padel grazie e alla prossima